Dove sta il caso alla felicità? Questa è la domanda che con il progetto Building Happiness la Fondazione per l'architettura vuole porre ai cittadini, ai professionisti, agli architetti e non architetti per capire quello che può essere il contributo dell'architettura alla realizzazione della felicità delle persone cioè riuscire a dare un nostro contributo al diritto alla felicità di cui oggi si sta parlando sempre di più a tutti i livelli e quindi quello che può essere il contributo dell'architettura ad un ambiente che risponda ai bisogni di felicità Lo faremo attraverso un processo culturale molto lungo con diverse voci, inviteremo architetti, filosofi, psicologi, antropologi, economisti esperti di neuroscienze con l'intento proprio di avere una visione il più plurale possibile e far confluire tutte queste visioni in un libro che si chiamerà Building Happiness Book che sarà una sorta di manuale della progettazione felice Grazie 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 Grazie